Abiti leggerissimi Questo tulle glitterato oro rappresenta veramente l'essenza di quello che è la collezione 2008 Tulle, trasparenza, corsetti, ghépier con questi pizzi preziosissimi laminati oro con svaroschi e perle, degradé per un volume ampissimo e una leggerezza tutta da indossare Tessuti spalmati, broccati, sete jacquard preziosissime Questo è il tema della collezione e la ricerca che Domadami offre per la collezione 2008 Vestiamo principesse, vestiamo ragazze splendide che devono essere sempre meravigliose Quindi un glamour nuziale sfrenatissimo inserito in un contesto in cui però la sposa deve essere assolutamente protagonista Grazie 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 Oui Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.